Pronto! Un altro po' di caffè, Cher! Arriva subito, Vergil! Ehi, Tiana! Buongiorno, Giorgio! Ciao! Ciao, Gen! Stasera andiamo tutti insieme a ballare! Vieni, unisci a noi! Vieni, vieni! Potresti ballare con me! Sapete che non so ballare? Comunque io vuoi un tovagliolo, tesoro! Ho un turno doppio stasera, le sue frittelle! Solo così posso... Potere da parte i soldi per il ristorante, lo so, lo so! Ragazza, non fai altro che lavorare! Pronto! Magari un'altra volta! Dicevo che non sarebbe venuta! Parli ancora di quel ristorante? Before, le uova si bruciano! Non arriverai mai ad avere i soldi per la caparra! Ci sono molto vicina! Sì? Molto quanto! Oh, sono pronte le frittelle? Hai le stesse probabilità di avere un tuo ristorante di quelle che ho io di vincere una gara di galoppo! Uh-uh! Presto, sellatemi! Partenza, vai, vai! Buongiorno, signor La Bouff! Buongiorno, Tiana! Congratulazioni per essere stato eletto re del martedì grasso! Cosa che mi ha tolto completamente di sorpresa! Per il quinto anno consecutivo! Ha-ha-ha-ha-ha! Allora, sarebbe bello festeggiare... Vigne, appena sfornati, aspettavano voi! Beh, continuo a portarmeli finché non scopro... Diggia! Diggia, diggia, diggia! Ciao, Sara! E lui si fermerà a casa nostra come mio ospite personale! Oh, Lotti, è meraviglioso! Solo un piccolo consiglio! Come dice mia madre, la via più veloce per il cuore di un uomo passa per il suo stomaco! Sì, certo! Che cosa è stato? Oddio, tu sei veramente un genio! Mi serviranno 500 dei tuoi bignè a chiappa uomini per il mio ballo di stasera! Scusami, papone! Pensi che questi basteranno? Ah, que... Questi basteranno senz'altro, Lotti! Altro che... Avrò il mio ristorante! Ah-ha-ha-ha! Stasera finalmente arriverà il mio principe! E vi assicuro che non me lo lascerò scappare! Oh-oh-oh-oh!